Un saluto a tutti i ragazzi di italiapokerclub.com e italiapokerforum.com, ringraziamento speciale a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo periodo, nella speranza di poter fare una grande partita a novembre al final table delle World Series, ringrazio tutti, mi raccomando a novembre numerosi e sostenetemi perché ne ho tanto bisogno, un saluto da Filippo Candio a italiapokerclub.com, ciao!